Margherita camminava per strada, capendo che la sua vita era finita. I medici le avevano detto oggi che il trattamento non aveva avuto successo e che non avrebbero continuato a curarla. Capisci? Abbiamo fatto tutto il possibile. Pensavamo che la malattia si sarebbe ritirata, ma, come si è visto, è tutto inutile. Quindi non ha senso continuare con le procedure. Quindi vuoi dirmi che morirò? Ma no, non sto dicendo questo, ma devi capire. Essendo un adulto, che noi non siamo dei? Ma mi avevi detto che mi sarei guarita, che c'era speranza. Credimi, lo pensavamo davvero, ma ci siamo sbagliati. La malattia sta progredendo e non si ritira. Dopo l'università, Margherita andò a lavorare per la signora Svetlana. Aveva proprio bisogno di un assistente notarile e il lavoro era perfetto per Margherita. Svetlana era una vicina di casa, viveva nello stesso palazzo della famiglia di Margherita. Svetlana era nobile, viveva sola e sapeva che tutti in casa la odiavano, specialmente le donne. Vedeva come gli uomini la guardavano e come le donne si arrabbiavano con i loro mariti e le lanciavano maledizioni. Non capiva mai perché. Cosa aveva fatto di male? Se anche il tuo uomo guarda altre donne, dovresti incolpare te stesso prima di tutto, non la donna che ha guardato. Margherita, tua madre sa che ti sei messa a lavorare come mia assistente? No, signora Svetlana, non gliel'ho detto, perché onestamente non le importa affatto. Inoltre, sto pianificando di trasferirmi in un altro appartamento, non posso più vivere a casa. Perché? Ascoltare le sue continue lamentele, critiche, umiliazioni. A volte mi sembra di non essere sua figlia, che mi abbia preso da un orfanotrofio, sul serio. Ma ho visto che tuo padre ti ama molto, siete sempre insieme. E lui non dice niente a tua madre per farla comportare diversamente? No, lui tace sempre. A volte mi sembra che papà abbia fatto qualcosa di sbagliato, che mamma l'abbia scoperto e ora lo usi per tormentarlo costantemente. Hai provato a scoprirlo? Ho provato, ho chiesto sia a mamma che a papà, ma papà tace e mamma urla e dice di non intromettermi, perché non mi riguarda. Penso che se me ne andrò di casa, anche papà se ne andrà, perché è evidente che non ama mia madre. Hai ragione, chi vorrebbe vivere in un tale inferno? Inoltre, tua madre è una donna molto isterica. Sento spesso le sue grida, ascolta, posso darti un anticipo. Ti prendi un respiro e ti trasferisci. Ti ho osservato per alcuni giorni e ti dirò onestamente che sei un'ottima lavoratrice. Te la cavi benissimo. Sarai felice se realizzassi il tuo sogno. Davvero? Che bello. Allora con il tuo permesso me ne vado. Non ho più niente da fare oggi e correrò a vedere gli appartamenti. Ho selezionato un paio di opzioni e sceglierò quella che mi piace di più. Svetlana aprì il cassetto e tirò fuori una busta imbottita. Prendi. Ecco, qui c'è abbastanza per affittare un appartamento e fare un giro nei negozi. Ti serve comprare un paio di tagliere, visto che verrai con me per gli affari. E voglio che la mia assistente appaia come una donna d'affari. Margherita trovò un appartamento vicino al lavoro. Era piccolo, ordinato, perfetto solo per lei. Dopo ciò, tornò a casa per fare le valigie. Ci mise poco, perché aveva molto poche cose. Sua madre era sempre stata parsimoniosa con lei, comprando solo l'essenziale. Quando spendeva grandi somme per se stessa e si arrabbiava con il marito quando lui le rimproverava di vivere senza pensieri. Allora non sono problemi miei, cambia lavoro. Trovane uno che paghi bene. Sai bene che non indosso lo stesso vestito due volte. Sì, fai come vuoi, ma non capisco. Dove metti le tue cose? Perché non le dai a tua figlia? Lei va in giro con stracci. È troppo presto per lei indossare tali cose. E poi, perché dovrebbe mettersi in mostra? Aspetti di sposarsi. Poi faccia quello che vuole. Ma in questa casa vivi secondo le mie regole. Margherita aveva sempre sperato che suo padre alla fine battesse un pugno sul tavolo e mettesse sua moglie al suo posto. Ma questo non avveniva. Più spesso, suo padre semplicemente se ne andava in silenzio, senza rispondere. E dove pensi di andare? Entrò sua madre nella sua stanza, sorpresa, guardando la valigia di Margherita. Ho affittato un appartamento, ora vivrò separatamente da voi. E da dove hai preso che vivrai separatamente? Non essere stupida, disfa la valigia e restituisci i soldi. Mi serviranno. E qui la pazienza di Margherita si esaurì. Capì che era diventata indipendente e aveva tutto il diritto di fare ciò che voleva. Nemmeno per sogno. Cosa? Cosa hai detto? Adesso ti spalmo al muro, ti giuro. Ma non finì la frase perché Margherita si avvicinò a lei faccia a faccia e disse, non osare. E se mi colpisci, non mi importa che tu sia mia madre, riceverai indietro altrettanto, capito? La madre guardò Margherita confusa, senza sapere cosa rispondere. Era la prima volta che vedeva la figlia in tale stato. Perché era abituata a vederla eseguire sempre i suoi ordini. Ma per sua natura non era tipo da ingogliare l'offesa così facilmente. Si scagliò su Margherita a pugni. Non è chiaro come sarebbe finita, ma in tempo arrivò il padre e afferrò la moglie per il braccio. Cosa stai facendo? Non osare colpire la bambina. Bambina? Sei impazzito? È lei che ha cominciato a minacciarmi, capisci? Poi si girò verso Margherita e sbottò. Morirai come tua madre, capito? Ora sparisci dalla mia casa, perché non posso sopportarti. Mi ricordi mia sorella, altrettanto miele come lei. Margherita afferrò la valigia e fuggì via. Scendendo le scale, pensava alle parole della madre. O meglio, della zia. E quindi aveva indovinato giusto, non erano i suoi genitori. Allora perché l'avevano cresciuta invece di mandarla, per esempio, in un orfanotrofio? Si sistemò nel suo appartamento per calmarsi un po', ma non funzionò. Allora si preparò e andò a fare shopping, sperando che almeno questa attività la distrarrebbe dai suoi pensieri. Lo shopping ha effettivamente aiutato. E mentre tornava a casa già tranquillizzata, Margherita capiva che, comunque andassero le cose, era adulta, indipendente e poteva benissimo vivere senza né il padre né la madre. Il giorno successivo si presentò al lavoro nel suo nuovo taglier, con un trucco leggero e di buon umore. Oggi sei bellissima, brava Margherita. E il taglier che hai comprato è eccellente. Sinceramente pensavo che avresti risparmiato e comprato qualcosa di economico, ma mi hai sorpreso, hai scelto un ottimo taglier. Imparo in fretta, signora Svetlana. E poi ieri mi avevate fatto capire che mi porterete con voi. E vedendo come vi vestite, pensavo che accanto a voi in un taglier economico avrei fatto, per così dire, una figura stupida. Hai ragione. A proposito, come hanno preso il tuo trasloco i tuoi familiari? Mia madre, o meglio, come si è scoperto. Mia zia, ieri mi ha detto quello che pensa di me e ha anche cercato di picchiarmi. Ma mio padre, come sempre, è arrivato in tempo e l'ha trattenuta. Non ho aspettato di vedere come finiva tutto questo. Ho preso la valigia e me ne sono andata. Mamma, zia, non riesco a capirti. Puoi spiegare meglio? Margherita riassunse brevemente la conversazione del giorno prima. A dire il vero, sospettavo che non fosse tua madre. Pensavo che ti avessero preso da un orfanotrofio. Ma, quando tua madre ti guardava, vedevo come ti odiava. Quindi ho fatto queste conclusioni. Sai, in realtà non sono sorpresa. Pensavo anche io che non fossi loro figlia. E invece sei la figlia della sorella di tua madre, cioè tua zia. Quindi è così. Ho deciso che nel tempo libero dal lavoro cercherò la mia vera madre. È giusto. Se ti serve aiuto, chiedi. Ora al lavoro. Abbiamo moltissimo da fare insieme. Margherita passò l'intera giornata a sistemare documenti. Rispondere a telefonate e la sera andò con Svetlana a un incontro con un suo cliente che usava solo i suoi servizi. Ascoltava la loro conversazione. Annotava qualcosa nel suo tacquino, osservando interessata l'uomo, che era già avanti con gli anni. Ma nonostante ciò era incredibilmente affascinante. Anche lui guardava Margherita con un sorriso e lei vedeva nei suoi occhi un interesse verso di lei. Vedo che hai trovato una nuova assistente. E dove è la tua Tatiana? Beh, come al solito, si è sposata. Sembra che questo posto porti fortuna. Quindi, Margherita, sarai la mia quinta assistente. Tutte le tue predecessori si sono sposate. Onestamente, sono un po' invidiosa. A volte mi viene in mente che se anche Margherita mi lascia per sposarsi, allora prenderò il suo posto e sarò assistente di me stessa. Magari ho fortuna e anch'io mi sposo. Tutti risero insieme, alleggerendo l'atmosfera. Bene, sembra che abbiamo finito con il lavoro. Prendiamo un caffè. Ho la gola secca. Svetlana voleva rifiutare, dicendo che non era nelle sue abitudini e che con i clienti aveva rapporti strettamente professionali. Ma il signor Leonid la interruppe dicendo che per lei poteva fare un'eccezione. Svetlana, ci conosciamo da tanto tempo, quindi non penso ci sia nulla di male. Hanno bevuto il caffè e parlato. Il signor Leonid si rivolgeva spesso a Margherita. Era molto interessato a conoscere tutto di lei, ma con delicatezza faceva tutto molto attentamente. Anche Svetlana notava che lui era interessato alla sua assistente. Non poteva nemmeno offendersi, perché tutto era nel rispetto delle buone maniere. Dopo che il caffè fu finito, disse che doveva andare e che nei prossimi giorni sarebbe venuto in ufficio per i documenti che aveva chiesto a Svetlana di preparare. Quando se ne andò, Svetlana si girò verso Margherita e disse, Leonid si è preso una cotta per te, quindi stai attenta. È un vero rubacuori e spezzatore di cuori femminili. Sta divorziando da un'altra moglie. E sai cosa è interessante? Lui tradisce a destra e a manca. Non resistono, ovviamente. Chiedono il divorzio. Sognano di prendere metà del suo patrimonio, ma non riescono. E perché? Perché quando si sposano con lui, firmano un contratto prematrimoniale che i suoi avvocati preparano abilmente, senza dimenticare che è non solo incredibilmente ricco, ma anche diabolico intelligente. Hai visto quanto è carismatico? Tutte le donne impazziscono per lui, ma lui non ha mai preso sul serio nessuna di loro. Sì, è un uomo molto bello. Onestamente, anche io sono stata colpita dal suo sguardo magnetico, ma poi mi sono ripresa e mi sono concentrata sulla conversazione. Sei una ragazza interessante. Probabilmente l'hai catturato proprio per questo, perché è abituato a vedere tutte le donne che si sciolgono e non staccano gli occhi da lui. Mentre con te non è andata così. Svetlana, ma non solo con me, anche con te, anche tu lo tratti in modo professionale, e inoltre sei molto bella, come ha fatto a non notarti e a non sposarti finora. Svetlana ordinò loro un altro caffè e quando fu servito, iniziò il suo racconto. Quando ci siamo conosciuti, stava divorziando dalla sua seconda moglie. Mi era stato incaricato di preparare alcuni documenti e credimi, come tutte le altre donne, eccetto te naturalmente, sono caduta sotto il suo sguardo. Mi sono innamorata di lui a prima vista e sognavo solo di finire tra le sue braccia il più presto possibile, ma lui non si affrettava e in realtà faceva finta di non notarmi. Ho iniziato a osservare che tipo di ragazze gli piacevano. Ho cambiato colore di capelli, ho fatto un altro taglio e ho iniziato a vestirmi più sfacciata, ma non ha mai mostrato alcun interesse per me. E quando stavo per perdere la speranza, un bel giorno mi chiamò e mi invitò a cena. Ricordo che andavo in un umore molto triste, capendo che probabilmente non ero di suo gusto e che mi aveva invitata, probabilmente, solo per discutere di alcuni problemi lavorativi. Fu la serata più bella della mia vita. Poi andammo a casa sua e la mattina mi svegliai nel suo letto. Abbiamo iniziato a vederci. Fu un anno meraviglioso, perché fu esattamente il tempo che trascorremmo insieme. Mi aspettavo che mi proponesse di sposarlo, ma non lo fece. Poi scoprì che oltre a me aveva altre quattro candidate, tra le quali scelse la sua terza moglie. Non puoi immaginare quanto stessi male. Non volevo nemmeno più vivere. Fa di tutto per far sì che le donne abbiano bisogno del suo amore. Quando non è vicino, sembra quasi di non poter respirare. Ma ce la feci e mi costrinsi a dimenticarlo. Ora siamo solo partner commerciali. E si rivolge a me quando ha bisogno dei miei servizi. E devo dire che paga bene. Una storia bella e molto triste, sussurrò Margherita. Sì, triste ma bella. Ti ho raccontato tutto questo per farti stare attenta con lui, perché non voglio che anche il tuo cuore si spezzi. Sai, dopo di lui molti uomini mi hanno fatto la proposta, ma non sono riuscita a stare con nessuno. Perché volevo solo qualcuno come Leonid, ma non ce ne sono altri come lui nel mondo. Margherita ammise a se stessa di essere stata colpita anch'essa da quello sguardo incantevole, e a dire il vero, avrebbe voluto, come Svetlana, svegliarsi nel suo letto. Inoltre capiva che lui era molto esperto, mentre lei non lo era affatto. Dopotutto, a 24 anni non aveva ancora avuto nessun uomo. Quando Margherita tornò a casa, i pensieri la riportarono nuovamente all'incontro che aveva avuto quel giorno al caffè. Si avvicinò allo specchio e si esaminò. Allora, Margherita disse al suo riflesso, per quanto sia triste, non sei il suo tipo. A lui piacciono le donne sofisticate. E tu sei solo una ragazza goffa con le lentiggini sul naso. Non riuscirai a conquistare quell'uomo. Quindi, scaccialo dalla testa e concentrati sul lavoro. Dopo un tale discorso con se stessa, si sentiva sempre meglio. Fu così anche questa volta. Già il giorno dopo non pensava più a Leonid. Si immerse nel lavoro, così da non avere tempo per pensare a sciocchezze. Tutto sarebbe stato perfetto, se Svetlana non le avesse dato i documenti pronti e non le avesse ordinato di portarli a Leonid nella sua azienda. Beh, Svetlana, forse è meglio se lo fai tu. No, Margherita, ho ancora due incontri oltre a questo, quindi non ce la faccio. Se non vuoi incontrare quest'uomo, lascia i documenti alla segretaria. Spiega da dove vengono e che deve consegnarli urgentemente al suo capo. A proposito, poi puoi andare a casa, sei libera per oggi. Ho esaminato i documenti che hai preparato e sono felice che tu stia facendo tutto correttamente e nei tempi giusti. Sono soddisfatta di te. Ecco il tuo stipendio. Quindi oggi puoi andare per negozi e comprarti qualcosa. Perché i tuoi due completi mi hanno stufato. Prendi qualcosa di nuovo. Margherita entrò nella hall dell'azienda diretta dal signor Leonid. Si percepiva l'opulenza anche lì. Era evidente che l'azienda fosse molto ricca. Entrò nell'ufficio e guardò la graziosa segretaria seduta al computer che, a quanto pareva, stava sistemando dei documenti. Al solo sguardo, guardò Margherita con aria altezzosa e poi rispose pigramente. Se cercate il signor Leonid, non c'è e non ci sarà oggi. Perfetto. Gli consegni questi documenti vengono dal notaio signora Svetlana. Il vostro capo ha chiesto di prepararli e consegnarli urgentemente. Ah, quindi siete Margherita. Allora passate pure. Il signor Leonid vi aspetta. Non potreste consegnarli voi? Devo ancora passare in altri posti. No, ha chiesto che consegnaste i documenti direttamente a lui. Margherita sospirò e, con la testa china come se stesse andando al patibolo, seguì la segretaria. Buongiorno, Margherita, sentì pronunciare il suo nome e alzò gli occhi. Dio, avrebbe preferito non farlo. Il cuore le batte forte. Era di nuovo intrappolata in quella dolce e piacevole prigione che faceva tremare il suo corpo solo al pensiero di quell'uomo. Buongiorno, signor Leonid, ecco i documenti che avete chiesto di preparare. Gli porse la cartella. Lui la prese e la gettò sulla scrivania, senza distogliere lo sguardo dal volto di Margherita. Scusatemi, ma devo andare, balbettò Margherita, e stava per andarsene. Ma Leonid la fermò con una frase. Non è vero, oggi è il vostro giorno libero, e da quanto so, avevate intenzione di fare shopping. Come lo sapete? Come lo so? So sempre tutto delle persone che mi interessano. Non c'è nulla di strano. Sapete, anch'io oggi ho il giorno libero e volevo fare shopping. Vi va di farmi compagnia? Mentre Margherita pensava a come rifiutare educatamente. Leonid la interruppe di nuovo. Perfetto, sono contento che siate d'accordo. Andiamo. C'è una macchina che ci aspetta giù. Portò Margherita nella boutique più costosa della città, dove i prezzi erano così alti che Margherita si spaventò. Dio mio, questi non sono prezzi, sono numeri di telefono. Sussurrò, pensando di non essere sentita, ma Leonid la sentì e scoppiò a ridere. Però qui ci sono capi esplosivi firmati dai più famosi cuturie. Quindi rilassati e iniziamo a provare. Io ti consiglio di provare questo completo e questi due vestiti. Penso che con questi sarai splendida. Ma Margherita esitò. Non farmi rimanere male. Margherita, pago tutto io, voglio farti un piacere. Ma perché mai dovresti farmi un piacere? Io non sono nessuno per te, e poi non mi serve nulla. Leonid si avvicinò a Margherita, le prese il mento e la guardò negli occhi. Mi piaci molto, Margherita, sei una ragazza straordinaria. Mi piacerebbe molto farti qualcosa di bello. Inoltre non ti obbliga a nulla. Quindi ti prego, non rifiutarmi, per favore. Margherita si rilassò e si dedicò completamente alla prova degli abiti. Gli abiti le stavano davvero molto bene. Vedeva persino come la trasformavano, come diventava più femminile, come il vestito nascondeva le sue spigolature e metteva in risalto i suoi pregi. Dopo essere usciti dal negozio, Leonid la invitò al ristorante, dicendo che era molto affamato, perché non aveva nemmeno fatto colazione quella mattina. In effetti, anch'io ho fame. Poi guardò Leonid e aggiunse, grazie per questi vestiti fantastici, hai speso così tanti soldi che mi sento quasi in imbarazzo. Sciocchezze, il denaro esiste per essere speso, quindi va tutto bene. Si sedettero al ristorante, in una sala privata lontano da occhi indiscreti e conversavano. Margherita non aveva mai incontrato un interlocutore così interessante come Leonid. Era molto piacevole ascoltarlo e a volte dimenticava persino dove si trovava. Le raccontava delle città che aveva visitato, dei loro pregi e difetti, della loro cultura, cucina e così via. Poiché Margherita, nei suoi 24 anni, non era mai stata da nessuna parte. Lo ascoltava con grande interesse. Ti piace Parigi, Margherita? E a quale donna non piace? Rispose Margherita con una domanda. Solo che non posso dire nulla perché non ci sono mai stata. Ma si dice che sia una città molto romantica. Però, ad essere sincera, mi piacerebbe molto visitare il Louvre. Margherita, sei straordinaria. In tanti anni è la prima volta che sento una risposta del genere. Di solito le donne sono interessate ai negozi, o al massimo alla Torre Eiffel. Tu invece hai risposto in modo completamente diverso. Margherita arrossì e abbassò lo sguardo sul piatto di insalata. Quella stessa sera, Leonid la portò a casa. Naturalmente era un po' delusa, perché avrebbe voluto prolungare quella serata. Ma non lo lasciò trasparire. Ringraziò di nuovo Leonid per la splendida giornata e si precipitò nel portone. Leonid la guardava con sorpresa mentre se ne andava, pensando che lo avrebbe invitato per una tazza di tè o caffè. Ma lei lo aveva sorpreso ancora una volta in un solo giorno. Da quel giorno iniziarono a frequentarsi. Leonid non voleva lasciarla andare, si innamorava sempre di più di Margherita. E quando arrivarono a fu piacevolmente sorpreso di essere il suo primo uomo. Così Margherita, senza rendersene conto, lo legò a sé per sempre. Ma lei stessa doveva sempre mantenere il controllo. Ricordava le parole di Svetlana sui cuori spezzati e non voleva aggiungere anche il suo cuore spezzato a quella lista. Si era promessa che, se Leonid le avesse fatto una proposta, se ne sarebbe andata, per quanto difficile fosse. Gli raccontò della sua famiglia. E lui l'aiutò a fare ricerche sulla madre. Si scoprì che suo padre era veramente suo padre. La sua vera madre era la figlia maggiore della famiglia e stava per sposare Simone. A quel tempo era già incinta di Margherita, ma non fecero in tempo a sposarsi. Dopo il parto, Natalia si ammalò gravemente e deperiva a vista d'occhio. La gente mormorava. Diceva che qualcuno le aveva fatto una maledizione. Non riuscirono a salvarla e presto morì. Il padre si sposò con la sorella minore di Natalia, Tatiana, a condizione che adottassero Margherita e la crescessero come loro figlia. Apparentemente Tatiana promis, ma non mantenne la promessa, poiché odiava sia Natalia che Margherita. Leonid capiva di voler sposare Margherita perché aveva paura di perderla. Non gli era mai successo prima, in genere. Era indifferente alle donne e non aveva mai amato nessuno. Ma questa volta era diverso. Vedeva che Margherita lo trattava con troppa calma, mentre lui, alla sua vista, perdeva la testa. Comprò un anello e la invitò al ristorante, dicendo che voleva dirle qualcosa di importante. Margherita capì cosa intendesse e decise di allontanarsi. In quel periodo aveva conosciuto un giovane di nome Sergio. Vedeva che lui era molto interessato a lei e decise di rompere con Leonid per frequentare lui. Leonid girava tristemente l'anello, capendo che Margherita non sarebbe venuta. Non rispondeva alle sue chiamate, anche se lui la chiamava ogni cinque minuti. Poi spense completamente il telefono. Non resistendo, andò a casa sua. Lei non lo fece entrare in casa e propose di parlare fuori. Margherita, perché non sei venuta? Cosa è successo? Niente, ho solo deciso che è ora di separarci. Stavo molto bene con te, ma ora amo un altro. Si chiama Sergio, è un avvocato e so che mi ama. Non ha senso parlare oltre di lui, perché comunque farai delle ricerche su di lui. Certo, devo sapere in che mani finirà la mia ragazza. Queste parole le fecero male al cuore, ma Margherita non lo diede a vedere. Si voltò e se ne andò. Sentì alle sue spalle, ricorda, se avrai bisogno di aiuto, io ci sarò sempre per te. Sergio le fece la proposta e si sposarono. Margherita continuò a lavorare con Svetlana, ma quando si presentava a Leonid, Margherita chiedeva che fosse Svetlana a occuparsene, perché non voleva incontrarlo. Margherita, lui ti ama, e solo tu non riesci a vederlo. È la prima volta che gli succede, sei stata l'unica fortunata, ma hai perso questa occasione. No, non l'ho persa, semplicemente non voglio essere una di quelle che firma con lui il contratto matrimoniale e poi le carte del divorzio. Ho deciso di sposare Sergio. La nostra è una storia più prosaica, senza questi documenti contrattuali. All'inizio tutto andava bene. Poi Margherita cominciò a notare che Sergio non le dava soldi e doveva pagare l'affitto da sola, oltre a comprare il cibo. Quando gli chiese perché, lui rispose che stava risparmiando per una macchina. Inoltre Margherita guadagnava bene, quindi non c'era nulla di grave. Presto Sergio comprò la macchina, iniziò a sparire e a non dormire a casa. Margherita trovava nel suo auto mutandine da donna, rossetti e altro ancora. Era chiaro che il marito la tradiva. Ma cosa ti aspettavi? Forse non si era ancora divertito abbastanza. Ora sta recuperando il tempo perso. Svetlana, cosa devo fare? Inoltre, sono incinta di lui. Pensavo che sarebbe stato felice. Ma ora, vedendo cosa sta facendo, non so nemmeno come dirglielo. Dovresti dirglielo. Forse si ravvederà e si calmerà. A volte succede che i bambini rendano i loro padri più responsabili perché sentono il peso della responsabilità. Va bene. Stasera, quando tornerà dal lavoro, glielo dirò. Margherita preparò la tavola e attese con ansia il marito. Presto arrivò Sergio. Vedendo una cena così sontuosa, iniziò a mangiare con piacere. Margherita prese un profondo respiro e disse. Sergio, vorrei parlarti, ho una novità. Spero sia una buona notizia. Aspettiamo un bambino. Cosa? Sei seria? Sì, è già da due settimane. Non mi interessa. Al momento non voglio bambini. Mi hai capito? Fai quello che vuoi, ma devi liberarti del bambino. Margherita trasalì e si alzò dal tavolo. Voleva dirgli tutto ciò che pensava di lui, ma non fece in tempo. Fu colpita da un forte dolore al ventre e perse conoscenza. Si svegliò in ospedale. Un medico le si avvicinò e le disse che aveva perso il bambino. Margherita pianse tutto il giorno. Le infermiere le stavano intorno, cercando di consolarla. Il giorno dopo le dissero che doveva fare alcuni esami, perché il medico aveva notato qualcosa di preoccupante. Margherita non ci badava molto, ma fece gli esami e ora attendeva i risultati. Il medico la chiamò nel suo studio e le disse che era gravemente malata e che prima avrebbe iniziato la cura. Prima sarebbe guarita. Quando Sergio seppe che Margherita era malata, chiese il divorzio. Nel giro di un mese si sposò con un'altra e a Margherita non importava più nulla. Aveva solo un desiderio, rimettersi in forma il prima possibile e far regredire la malattia. Non riusciva nemmeno a esprimere quanto stesse male. Era molto dimagrita, ma continuava a prendere le medicine che le prescriveva il medico. Margherita, perché non chiedi aiuto a Leonid? Sai bene che farebbe qualsiasi cosa per te. No, l'ho ferito molto con il mio rifiuto. Pensavo che fossi solo un altro dei suoi giocattoli, ma ho fatto conclusioni sbagliate. E ora guardami, chi potrebbe volere una come me? No, me la caverò da sola. Capisco, sei strana, ma tu conosci meglio la situazione. A proposito, è vero che il tuo ex si è risposato? Sì, è così, ma a me non importa. Sai, ho capito che non l'ho mai amato davvero. E lui non ha mai amato me. Ci siamo lasciati senza rimpianti. Quindi gli auguro solo felicità. A proposito, la sua nuova moglie è incinta. Presto avrà un bambino. Margherita si sentì male dopo aver sentito questo. Ricordò quando era incinta, ma non aveva avuto fortuna e le cose erano solo peggiorate. Aveva completato il ciclo di cure e attendeva con impazienza ciò che il medico avrebbe detto, ma le previsioni erano poco incoraggianti. La malattia non è regredita come pensavamo. Per quanto sia triste, non possiamo fare nulla per aiutarla. Certo, se avesse i soldi, forse all'estero potrebbero aiutarla, ma non li ha. Quindi mi dispiace. Quindi mi sta dicendo che morirò? No, c'è sempre speranza. Ma nel suo caso è molto fragile. Proviamo di nuovo la terapia. Si riposi e tra un mese l'aspetto di nuovo. Proviamo ancora. Forse questa volta ci riusciremo. Margherita uscì dall'ufficio e sentì il medico dire all'infermiera che non avrebbe vissuto un mese. Ma perché le ha detto di tornare? Sei strana, Olga. Cosa volevi che le dicessi? Che morirà presto. Margherita camminava per strada, non sapendo cosa fare. La risposta venne da sola. Doveva prepararsi alla morte. Tornò a casa e iniziò a contare quanti soldi le restavano. Poi raccolse i suoi gioielli in un fagotto e andò al banco dei impegni. Sembra che basti per tutto, pensò, e andò all'armadio per scegliere l'abito con cui sarebbe stata seppellita. Aprendo le ante dell'armadio, lo sguardo si fermò su un abito nuovo che non aveva mai indossato. Mi seppelliranno con questo. Lo tolse dalla gruccia e iniziò a esaminarlo. Poi vide che qualcosa sporgeva dalla tasca. Un pezzo di carta. Lo aprì e lesse. Ricorda che quando starai male. Io ti aiuterò sempre. Tuo Leonid. Margherita rimase senza parole e si sedette sul tavolo. Come c'era finito quel biglietto lì? Da quanto tempo era lì? Non lo sapeva. Camminava per la stanza pensando se valesse la pena rivolgersi a Leonid oppure no. Da un lato voleva vivere intensamente, ma dall'altro sapeva bene come si era comportata con lui. E dopo tutto ciò le vergognava andarlo a trovare. Si tormentò per tre giorni, ma ricordando che il tempo stringeva e che ogni giorno contava, decise finalmente di andare da lui. Entrò nella sala d'attesa, dove la segretaria, scontenta, la scrutò dalla testa ai piedi e chiese in modo sgarbato. Cosa desidera, signora? Margherita voleva indignarsi, ma ricordando che ora non aveva un aspetto adeguato a causa della malattia che l'aveva devastata, decise di non farlo e chiese semplicemente. Il signor Leonid è in ufficio? Ha un appuntamento? Perché senza appuntamento non riceve nessuno. Potrebbe dirgli che è venuta Margherita? È urgente, per favore. Ma mi sente, signora? Ho detto chiaramente che il signor Leonid non riceve nessuno, quindi vada via. Va bene, allora mi segni per domani? È ridicolo, ha appuntamenti prenotati per due mesi avanti. Ma non posso aspettare così tanto. Non potrebbe aiutarmi? No, non posso aiutarla. Vada via. Margherita si girò per andarsene, ma la testa le girava e sentì che stava per cadere. Ma non cadde a terra, perché delle mani forti la sorressero. Attraverso la nebbia sentì solo una frase. Chiama subito il medico. Aprì gli occhi e si guardò intorno. Vicino a lei c'era un medico che la teneva per mano. Ecco, signor Leonid. Le avevo detto che si sarebbe ripresa e che non c'era da preoccuparsi. Leonid si sedette accanto a lei e le prese la mano. Come ti senti? Lei annui, incapace di dire una parola. Ancora una volta, come allora, cadde sotto l'incantesimo di quello sguardo e, come allora, il suo corpo reagì. A dire il vero, ho molta sete, disse senza distogliere lo sguardo da lui. Lui le porse un bicchiere d'acqua e si sedette di nuovo accanto a lei, osservando come beveva. Margherita mise giù il bicchiere vuoto, poi sospirò e chiese. Mi hai riconosciuta? Pensavo che non mi avresti riconosciuta, perché sono molto cambiata. Non è vero, sei sempre bellissima. Sono venuta per chiederti aiuto. Ma se mi rifiuterai, capirò, perché so quanto ti ho ferito. Leonid si alzò e iniziò a camminare per la stanza. Guardò Margherita, poi riprese a camminare avanti e indietro. Poi si versò dell'acqua e la beve tutta ad un fiato. Margherita lo osservava, e dentro di sé sentiva un vuoto crescente, perché capiva che probabilmente le avrebbe detto di no, e lui era la sua ultima speranza. Ti aiuterò, ma ho una condizione. Devi accettare di partire con me per l'estero per le cure tra una settimana. Come fai a saperlo? So tutto di te, Margherita, e da tempo ti aspetto. Se non fossi venuta oggi, probabilmente sarei venuto io da te. Allora, sei pronta a sentire le mie condizioni? Margherita annui. Pagherò le tue cure, ma solo se accetterai di sposarmi. Margherita pensò di aver capito male. Si aspettava di tutto, ma non questo. Leonid, ho capito bene. Vuoi che io ti sposi? Sì, è la mia condizione, disse lui, senza staccare i suoi bellissimi occhi da Margherita. È uno scherzo. Margherita, ti sembro uno che scherza? Sono serio. Tirò fuori dalla tasca l'anello che aveva comprato per lei quando stava per farle la proposta. Lo hai portato con te per tutto questo tempo? Chiese Margherita incredula, guardando l'anello. Non importa, aspetto una risposta. Accetto, sussurrò lei, coprendosi il viso con le mani. Si sposarono quattro giorni dopo. Non ci fu un matrimonio. Festeggiarono semplicemente da soli al ristorante. Margherita era felice, perché Leonid letteralmente la portava in braccio. Aveva molta paura per Margherita e, per non perdere tempo, il giorno dopo il matrimonio la portò all'estero. Margherita sedeva al ristorante dentro la torre Eiffel e guardava con amore il marito, che ricambiava con uno sguardo innamorato. Aveva una notizia, ma aveva paura di dirgliela, perché non sapeva come avrebbe reagito. Aveva già avuto un'esperienza negativa. Vedo che vuoi dirmi qualcosa. Parla, ti ascolto. Margherita sospirò, poi chiuse gli occhi e disse, avremo un bambino. Un minuto dopo, Leonid teneva già sua moglie tra le braccia, baciandola e ripetendo, Margherita, sei la donna più straordinaria del mondo. E ora anche questo. Non puoi immaginare quanto sono felice. Margherita sorrise e baciò il marito. Lo capiva, perché anche lei era molto, molto felice. Molto felice. Molto felice. Molto felice. Molto felice. Molto felice. Molto felice.